Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge, dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. E' quanto fa sapere Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un post pubblicato su Facebook. Immediata la reazione di favorevoli e contrari a una misura pensata per sostenere i cittadini in difficoltà. Non abbiamo mai negato che il reddito di cittadinanza vada perfezionato, ma abolirlo significherebbe togliere agli ultimi quel poco che gli è rimasto per sopravvivere. La replica di Nuccio Di Paola, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, che evidenzia. Purtroppo ormai quasi tutti i partiti sparano sul reddito di cittadinanza. Lo stesso Di Paola sottolinea, si fa una narrazione sbagliatissima di questo strumento. Per esempio, non è vero che foraggi i cittadini per restare a poltrire sul divano. Ad oggi il 70% dei comuni siciliani ha attivato progetti di utilità collettiva che utilizzano per cettori del reddito.